Vicino al cinema c'è l'auto, ci sono due mie amiche al bar, non c'è più posto per noi, ci sono tutti i nostri amici, sul tavolo c'è un ragno, c'è qualcuno che ti cerca, dove c'è un parcheggio, c'è ancora molto da fare, non c'è più pane in cucina, ci sono le pesche nel cestino, nel bosco c'è una macchina, sul tavolo c'è un quaderno, sul letto ci sono due magliette, sotto il tavolo c'è un gatto, non c'è più pasta in cucina, c'è qualcuno che mi saluta, i miei amici ci sono ancora, non c'è più acqua in piscina, c'è un cane che abbaia, ci sono dei bambini in giardino, ci sono molte persone egoiste, io ho una bicicletta nuova, io ho un guasto alla macchina, io ho un guasto alla macchina, noi siamo molto felici quest'anno, i miei genitori sono ancora giovani, mio cugino ha due gatti bianchi, i miei vicini sono due olandesi, voi siete in vacanza da due settimane, Claudia ha mangiato una mela, voi avete il suo indirizzo di casa, le tue amiche sono annoiate, loro sono molto lontani da casa, lei ha molte piante sul balcone, noi siamo alla stazione da stamattina, voi avete qualcosa da mangiare, io ho un'auto nuova da due settimane, noi abbiamo un appartamento, il mio computer è vecchio, lei ha i capelli lunghissimi, se hai sete ho una bottiglia d'acqua, in biblioteca hanno molti libri, in biblioteca ci sono molti libri, il cieco, i ciechi, lo specchio, gli specchi, una casa, delle case, il dottore, i dottori, la signora, le signore, un reparto, dei reparti, il sapone, i saponi, i saponi, l'euro, gli euro, una classe, delle classi, una volta, delle volte, l'uomo, gli uomini, il giorno, i giorni, la casa, le case, una notte, delle notti, delle notti, il cavallo, i cavalli, la polterona, le polterone, un letto, dei letti, la camera, le camere, il libro, i libri, un bicchiere, dei bicchieri, la tovaglia, le tovaglie, di che colore è l'auto? sai giocare a calcio? certo che potete andarci vai alla scuola media? perché non fai i compiti? perché non fai i compiti? voglio giocare a carte lei è Giovanna lei è Giovanna voi avete 15 anni voi fate i compiti per domani voi fate i compiti per domani loro vogliono studiare qui io mangio una pizza io mangio una pizza non voglio andare al cinema qui a destra c'è il bagno come stanno i tuoi figli? io mi chiamo Stefano quanti anni ha tuo figlio? loro sono i miei amici loro sono i miei amici mi piace lo zucchero mio figlio va a scuola lui regala i suoi giochi voi venite a casa stasera? stiamo andando tutti da Paolo questo vestito è di due anni fa Luca vuole qualcosa da bere hai una casa piena di quadri siamo usciti da quel negozio siamo usciti da quel negozio domani non ho nulla da fare la porta è di nuovo chiusa ti ho visto da qualche parte l'auto di tua nonna è verde c'è una lettera per te da Parigi Claudia ha finito di studiare il vaso è caduto dal balcone Luca è stato al cinema da solo oggi partite col volo del luna oggi partite col volo del luna la polterona è comoda le polterone sono comode il letto è bello e grande il letto è bello e grande i letti sono belli e grandi la camera è piccola le camere sono piccole il libro è lungo e noioso i libri sono lunghi e noiosi i libri sono lunghi e noiosi tutto il giorno tutti i giorni che bella casa che belle case che belle case tutta la notte tutte le notti il cavallo nero i cavalli neri i cavalli neri la cravatta nera le cravatte nere la cravatta verde la cravatta verde le cravatte verdi l'altra volta le altre volte questo signore questi signori questi signori questa signorina queste signorine un reparto dei reparti dei reparti un sapone dei saponi un euro degli euro il cieco il cieco i ciechi lo specchio gli specchi la vacanza le vacanze il dottore il dottore i dottori i dottori dove sono le mie chiavi? cosa facciamo questo sabato? quante camicie hai comprato? con chi sei stato in vacanza? qual è il tuo indirizzo di casa? mi dici che cosa è successo ieri? cosa avete visto al museo? quando andiamo al cinema? come si chiama tuo cugino? come si chiama tuo cugino? quanta pasta hai mangiato? di chi sono queste matite? perché sei andato via così? perché non andiamo al mare? cosa ti ha detto il dottore? chi è l'uomo che ti saluta? a che ora devi andare via? quanto tempo stai in città? quando tornate dalla spagna? chi è il tuo migliore amico? dove siete stati questa estate? di che colore è la tua auto? mi passi il piatto che sta sul tavolo? la pizza che ho mangiato era buona non ricordo chi ha telefonato ieri chi non studia non passa gli esami i regali che mi hai fatto sono belli la canzone che hai messo mi piace Luca mi ha detto che non è a casa non ho capito che cosa state facendo mi chiedo chi ha finito la cioccolata ho scoperto chi ti ha rubato l'auto il vestito che hai venduto era mio ne parlo con chi mi può aiutare dimenticavo che non mangi carne dimenticavo che non mangi carne hai detto quello che tutti pensano hai detto quello che tutti pensano lui è mio nipote che vive a Napoli chi viene in spiaggia con me oggi? questa è una moto che va veloce le persone che ridono sono felici chi ride è più felice di chi non lo fa il giallo è il colore che preferisco chi va a letto tardi non dorme bene chi va a letto tardi non dorme bene mio cugino sa parlare lo spagnolo io non conosco tanta gente qui tu sai dove è la stazione dei bus? noi conosciamo un buon ristorante loro non sanno il mio indirizzo tu conosci il mio compagno di stanza? chi conosce la città di Firenze? non conosco nessuno in questa città so che lui si è diplomato noi non conosciamo il tuo collega io non so parlare il giapponese io non conosco il giapponese voi non sapete quanto ho pagato voi non sapete quanto ho pagato oggi ho conosciuto molti studenti tu sai come si cucina il pollo? mia zia conosce una ricetta buona tu non conosci nessuno di Napoli? lui non sa quanto guadagno non so cosa ci sia in quella busta ho visto un uomo che non conosco il cane sa prendere una pallina il cane sa prendere una pallina non ho capito che stai facendo mi chiedo chi sia quell'uomo ho scoperto chi ti ha rubato i soldi il vestito che hai comprato è costoso parlo con chi vuole ascoltarmi dimenticavo che sei allergico hai detto quello che tutti pensano mi passi il piatto che sta sul tavolo? la pizza che ho mangiato era buona non ricordo chi ha telefonato ieri chi lavora tanto viene premiato i regali che mi hai fatto sono belli il film che ho visto era interessante Paolo mi ha detto che ti saluta lui è mio cugino che vive a Roma chi viene al mare con me? questa è un'auto che va veloce le persone che ridono sono felici chi ride è una persona felice il blu è il colore che preferisco chi lavora la notte guadagna di più Luca non è più sveglio di noi Giulia ha più fratelli che sorelle lui ha più energia di sua figlia Claudia è più bella che geniale tu non guardi più film che serie ci sono più coltelli che forchette ci sono più coltelli che forchette gli amici sono meno bassi di me lei è meno giovane di sua sorella tu sei molto meno vecchio di noi ci sono meno studenti che alunni leggo meno romanzi che riviste leggo meno romanzi che riviste il lavoro è meno noioso che bello l'auto è veloce come la moto siamo competenti come loro quel cane è calmo come il mio io sono intelligente come lei noi siamo ricchi come loro Claudia è stanca come tutti Luca è il più ordinato della casa io sono il più alto della famiglia tu sei il più giovane del gruppo lei è la più alta della sua classe quella è la più bella di tutte l'isa è la più intelligente di noi voi avete già finito il lavoro anche loro lo hanno già finito Luca non dice mai dove è stato neanche lei ce lo dice mai lei non può uscire di casa oggi neanche noi possiamo uscire io non so chi ha fatto questo neanche lui sa chi è stato domani dovete alzarvi presto anche io devo alzarmi presto non ci piacciono i piatti freddi non piacciono neanche a noi tu mi mandi molti messaggi anche tu me ne mandi molti voi andate in vacanza d'estate anche loro ci vanno d'estate io vado al cinema ogni sabato anche io ci vado ogni sabato i miei amici non escono stasera neanche noi usciamo stasera neanche noi usciamo stasera voi dovete spostare la macchina voi dovete spostare la macchina anche tu devi spostare la tua lei non va mai a letto alle 10 neanche tu ci vai mai alle 10 loro non vogliono mai il gelato neanche noi lo vogliamo mai io telefono spesso a mia sorella anche lui le telefona spesso tu giochi molto spesso a calcio anche loro ci giocano molto lei gioca a calcio da molti anni anche tu ci giochi da molti anni i miei cugini non aspettano mai neanche voi aspettate mai Claudia non capisce la lezione neanche io capisco la lezione voi andate in vacanza domani anche noi ci andiamo domani quelle sono le mie valigie questa è stata la tua idea l'auto qui fuori è la sua quella villa è la sua questi sono i nostri gatti questo tavolo è il vostro quelle sono le loro moto quelle sono le mie bibite questo è il tuo cappotto quelli sono i suoi anelli quelle sono le sue case quello è il nostro bambino questi sono i vostri figli questi sono i vostri figli quello è il loro amico questa è la mia giacca questo è il tuo maglione quella è la sua macchina quella è la sua macchina quello è il suo zainetto quelli sono i nostri vestiti quelle sono le vostre bici questi sono i loro piatti questi sono i loro piatti che cui mi piace il vestito che hai preso ecco gli amici che mi aiutano ecco gli amici che mi aiutano Luca a cui ho detto tutto è qui il cane che ti inseguiva è mio chiamo lisa di cui non so nulla qui c'è una festa che mi piace il quale claudio il quale è mio amico è alto la frutta la quale è buona fa bene ecco elisa la quale è molto bella l'auto la quale è qui fuori è rotta vado dal nonno il quale è a casa lo dico a lei la quale non sa nulla chi 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 non cucina poi lava i piatti chi vuole partecipare si iscrive non mi piace chi è maleducato so chi ha fatto questo dipinto parlo con chi mi sta ascoltando non ho visto chi è andato via stiamo andando tutti da claudia questo vestito è di due anni fa paolo vuole qualcosa da bere hai una casa piena di quadri siamo usciti da quel negozio domani non ho nulla da fare la porta è di nuovo chiusa ti ho visto da qualche parte l'auto di tua nonna è verde c'è una lettera per te da parigi claudia ha finito di studiare il vaso è caduto dal balcone luca è stato al cinema da solo oggi partite col volo del luna stiamo tornando dalle vacanze stiamo tornando dalle vacanze quel telefono è di mio cugino ci vuole una penna per scrivere ci vogliono dieci minuti per andarci in vacanza bisogna guidare un po' per il dolce ci vuole lo zucchero per sciare ci vuole la pista di neve bisogna uscire di casa più spesso ci vogliono tanti giorni di vacanza bisogna telefonare al dottore ci vuole tempo per cucinare ci vogliono dei vestiti nuovi per la festa ci vogliono gli amici bisogna fare il pieno all'auto per studiare ci vuole impegno sull'albero ci vuole una stella bisogna chiamare la nonna bisogna chiamare la nonna ci vogliono molti ingredienti bisogna invitare paolo e luca ci vogliono un libro e una penna bisogna comprare la pasta bisogna comprare la pasta bisogna evitare la tua collega ci vogliono dei giornali nuovi questo è il cane di giulio Anna sta a Napoli da agosto sto per cominciare il lavoro il telefono è nel mio ufficio sto facendo le pulizie a casa tutti i miei amici sono in ferie questi biscotti sono buonissimi non voglio stare seduto qui fumare al cinema è vietato sto uscendo per fare la spesa la gita sta andando molto bene la mamma è di buon umore oggi sto ancora un po' a casa l'auto non deve stare aperta siamo contenti per l'esame state al caldo e non uscite dobbiamo stare attenti al cane Luca è ancora in salotto le mie penne sono nello zaino in casa si sta molto bene sono già stato in biblioteca penso che lui sia innocente so che non puoi andare a Pisa temo che tu perdi l'autobus aspetto che il mio amico venga non so se il mio amico viene ho capito che oggi non piove ti ho detto quando esco di casa voglio che tu vada a scuola non sappiamo dove sia Luigi non sappiamo quanto ci voglia me lo dici quando hai fatto se ci vado venite anche voi so che tu hai finito per oggi gli chiedo se sa qualcosa non so dove siano i miei gatti hai detto a Elisa che siamo in città non so che non so ad arrivare ci metto molto poco tramonta il sole ed è subito notte siete stati al mare ed era nuvoloso la tua bandiera è blu e arancione non so se lui è italiano o albanese il mio amico è giovane e alto e ora che faccio glielo dico o no Anna ed Elena sono in ritardo e anche Claudio è arrivata tardi Luca deve leggere e imparare devi scegliere se ci vai tu o io ho degli amici che abitano a Dimola cerco e intorno non trovo niente suono suonare grido gridare bacio baciare ballo ballare sonno dormire gioco giocare guida guida guidare cucina cucinare amore amare pensiero pensare pensare studio studiare invito invitare viaggio viaggio viaggiare viaggio viaggiare sbaglio sbagliare vista vedere taglio tagliare 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 lavaggio lavare salto salto saltare puntura pungere valore valere valere salto 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 salto